Com'è il morale? È altalenante, quando siamo in gruppo si fa gruppo, poi non sei abituato a venire qua la notte, non sei abituato a venire qua quando gli altri sono al mare, il sabato, la domenica, le tue famiglie vanno e tu non sei con loro e di conseguenza dici cosa faccio qua e ti va un po' giù il morale. Da un mese vivono di fronte alla propria azienda oramai chiusa, 24 ore su 24, con il buono e con il cattivo tempo, una decisione presa da quando a fine maggio ai dipendenti della Exo di Maserat è arrivato come un fulmine a ciel sereno l'annuncio della delocalizzazione in Bosnia e Herzegovina, una scelta aziendale che comporta il licenziamento di 56 persone, la disoccupazione di uomini e donne a volte unica fonte di reddito per le proprie famiglie. È un turnover con tutti i disagi che può essere a livello di un presidio, ci siamo organizzati a livello, sì, si può dire un po' un fai da te, abbiamo un po' di frigo, un po' di... Perché voi rimanete qui anche la notte? Eh sì, restiamo qui 24 su 24 a turnover. Il presidio durerà fino a quando non verranno chiuse le trattative. Attualmente le trattative si stanno svolgendo a Roma, hanno fatto già un primo incontro la settimana scorsa e abbiamo un altro incontro questa settimana, il 4. Che notizie vi stanno arrivando da Roma? La risposta è stata che l'azienda non ha nessuna intenzione di ritirare i licenziamenti, quindi continuerà con la linea della chiusura e quindi c'è una seconda convocazione mercoledì al Ministero. E lì penso che sarà una giornata abbastanza decisiva per le nostre sorti. In provincia di Padova ci sono circa 400 posti di lavoro appesi a un filo, spesso di aziende in salute, a volte, come in questo, di aziende che preferiscono trasferirsi altrove. Un fenomeno scoppiato nel Padovano proprio mentre la crisi sembrava essere passata.